Sullo stesso campo dove il Giulianova viene fermato dal Ponte Vomano, l'Aquila riagguanta la vetta con un perentorio successo nei confronti dei neroverdi di Federico Del Grosso. Generosi assolutamente, il Castle Nuovo è più che dignitosi nei confronti dell'armata aquilana. Con gli highlights di Manuel Centurame andiamo a vedere il film del match al nono, calcio da fermo, neroverde, palla in aria che viene alzata nel mucchio raccolta dal destro di De Gregoris che prova la botta che poteva far mare. La replica rosso-blu prima sui piedi di Santi Rocco al quale non viene concesso il gol per offside e in seguito con Sarrizzu il cui tiro si perde a lato. I rosso-blu alzano i giri e così sbloccano il match al ventunesimo l'angolo di Marchioni, il velo di Santi Rocco per la corrente di Arra che spinge in rete il vantaggio aquilano. Il gol non cambia il copione, insidiosa ma centrale la punizione di Sarrizzu mentre al ventottesimo da Benaggine di Palermo che lascia sfilare palla calcolando male e lasciando il recupero di Santi Rocco che fa ballare la sfera su tutta la luce della porta. Al trentacinquesimo ancora l'Aquila Cassese per Brunetti intercettato attuale punto da perdere forza e quindi facile preda di Palermo. Raddoppio nell'aria Sarrizzu pennella Marchioni in corna il 2 a 0. Bella ma la difesa guarda. Poi è la svolta di Corticchia che raccoglie e spara. Bravo Palermo sul tiro, si va al riposo con il doppio vantaggio esterno. Ad apertura di ripresa Epifani lascia Marchioni nello spogliatoio. Ray al suo posto, collocato a destra con Sarrizzu spostato a sinistra. Ed è proprio l'esterno d'attacco a divorarsi il terzo gol sotto misura servito da Carbonelli. Al quinto incursione di Ray sulla destra che prova il tiro, si oppone Palermo, recupera Santi Rocco che non trova lo spazio. La squadra di Federico Delgrosso paga il gap tecnico ma è assolutamente distinta per quanto riguarda l'impegno e l'agonismo. Come al diciannovesimo quando su una palla corta verso Diarrà è bravo De Gregoris a prendere tempo. Palla e tiro, sfera fuori. La caparbietà però è anche rosso-blu e si chiama questa volta Carbonelli. Bel recupero del numero 11, pallone in aria. Il neo entrato Ray non si fa pregare per mettere a fil di palo il 3-0. I padroni di casa provano a timbrare il tabellino al diciannovesimo. Angolo, sfera che attraversa lo specchio ma viene mancata dall'impatto dei neo entrati. Sciamanda e Venarucci. Trentunesimo triangolo. Scimia, Carbonelli, scimia, palla addosso a Palermo. Replica nero-verde, Sciamanda per Dublino. Barbagallo sporca i guanti in angolo. E sempre gli stessi guanti sventano oltre il fondo il tiro franco di Gagliardi. Insomma, generosità Castelnuovo che però non cambia assolutamente le sorti dell'incontro che regalano la vetta ai rosso-blu. Federico del Grosso, una gara che comunque non vi ha mai visto privi di generosità, di agonismo. Però purtroppo l'Aquila come differenza tecnica è troppo superiore. Secondo me è stata una prestazione da parte dei miei ragazzi decorosa, molto dignitosa. Quello che mi è piaciuto di più, nonostante questo risultato che potrebbe sembrare molto largo, secondo me sono rimasti sempre vivi, sempre in partita. Poi ragazzi... Ha corso fino al termine. La forza dell'Aquila non è che la scopriamo oggi. Questa è una squadra insieme al Giulianova che lotta per la vittoria del campionato. Quindi è chiaro che io non posso fare la corsa su queste squadre. Posso cercare di fare una mia partita dignitosa, cosa che è stata fatta. Io volevo questo. Ed è una prestazione che lascia ben sperare. Sì, infatti noi dobbiamo recuperare punti che abbiamo perso per strada contro altre compagini. Non di certo contro queste. Però, ripeto, mi è piaciuto l'atteggiamento, mi è piaciuto che la squadra sia rimasta sempre viva. Abbiamo preso comunque tre gol. Se ne andiamo ad analizzare, il primo sul calcio d'angolo, dove il vertice ha spizzato male una palla, e il giocatore dell'Aquila si è ritrovato sotto. Quindi, diciamo, è stato un gol fortunato. Il secondo è stata una disattenzione del mio quinto che non ha seguito l'uomo. Il terzo c'era forse un fallo di mano. Poi l'Aquila, per carità, ha creato numerose palle, azioni da gol. Noi abbiamo creato le nostre, perché comunque non dimentichiamoci che sullo 0-0 abbiamo avuto un tiro al volo dal limite dove se De Gregoris era più preciso potevano andare in vantaggio noi. Quindi noi le nostre palle e golle abbiamo create. La squadra ha risposto bene sul piano della vivacità e soprattutto del rimanere vivi, di cose che probabilmente un mesetto fa praticamente noi la partita si chiudeva dopo il primo gol. Quindi l'atteggiamento mi fa ben sperare. Quindi io non rimproverò nulla e faccio un in bocca al lupo all'Aquila perché è una squadra che è stata costruita per vincere e se la giocare fino alla fine. Allora mister, missione compiuta, riagguantata la vetta, un risultato rotondo, migliore squadra in attacco e in difesa. Ma in questo momento guantare il primato fa piacere per la testa. Ancora c'è tanto da giocare, tanto da fare. Siamo contenti che continuiamo il nostro trend. Oggi abbiamo vinto una partita con una squadra che era ben messa in campo, che ci ha dato filo da torci perché si sono chiusi molto bene. Però siamo venuti con la testa giusta, abbiamo fatto una grande gara anche oggi, e abbiamo portato a casa da tre punti importanti che ci fanno lavorare bene per la prossima partita. Il Castelnuovo è stato sempre in partita, ha corso sempre, gamba. Diceva Federico Del Grosso con molta dignità e anche molto orgoglio. Come no? Ma questo è la verità. È logico che noi lo sapevamo questo perché loro venivano a due vittorie consecutive e quindi giocavano anche con la testa un po' più sgombra. Quindi sapevamo tutte le insidie di questa partita, sapevamo le insidie di questo campo che la palla è sempre in gioco. Siamo stati bravi perché poi vincere non è mai semplice, l'abbiamo fatto con autorità, abbiamo anche amministrato bene il secondo tempo, potevamo fare qualche altro gol, però va bene così. Continuiamo per la nostra strada cercando di fare il massimo fino alla fine.